L'arrampicata è una delle poche attività sportive, di far virgolette sportive, che ti permette di scegliere in libertà sempre dove andare. Puoi sceglierti il percorso e questo ti dà un grande senso di libertà nell'azione che fai. Fuori di alcuni schemi che sono prettamente sportivi c'è la grande possibilità di vivere in un ambiente dove puoi perderti. Sono passati forse anche più di 35 anni, 37 credo, 36-37 anni e non ho ricordi nitidi, ma la cosa che più mi ricordo è proprio la grande potenzialità che avete in questa regione, in questo luogo, in questa gola per la scalata. Grazie a tutti, grazie a tutti.